Continua la striscia positiva dell'H Montella. La formazione è nata da Dino Guadaluppi e scesa in campo contro Arzano per l'ultimo match del 2016. Un match dominato dalle gialloniere che nel primo set hanno subito messo le cose in chiaro, chiudendo il parziale con il punteggio di 25-22 ma con il risultato mai in discussione. Qualcosa si è rischiato nel secondo set quando il solito blackout di Granese e compagni stava per costare caro. Nonostante il rinvenire di Arzano però le ragazze di Guadaluppi sono riuscite a vincere ai vantaggi anche il secondo parziale con il punteggio di 28-26. Il terzo set è stato invece il capolavoro delle montellesi con la solita di Omedia detta Arleggia con delle giocate d'alta scuola. Alla fine il terzo periodo è terminato 25-13, punteggio che ha consentito all'H Montella di conquistare il secondo 3-0 stagionale. Soddisfatto coach Dino Guadaluppi che ha visto un'intensità maggiore da parte della sua squadra rispetto alle ultime gare. Arzano è una squadra che se gioca senza far troppi errori e va sulle ali dell'entusiasmo è molto ostica, fa bene le sue cose, difende molto bene. Ci stava la difficoltà del secondo set che avevamo andati abbastanza avanti anche nel secondo e poi abbiamo permesso loro di rientrare. Stavolta l'abbiamo gestita con lucidità nel senso che abbiamo fatto affidamento sul nostro muro e la cosa ha funzionato. Diciamo che io sono abbastanza soddisfatto. Soddisfatta anche Valeria Diomede, sempre più leader della squadra della presidentessa Alba Buccella. Fondamentali tre punti per noi per riuscire a mantenerci nelle posizioni alte. Quindi sappiamo che ogni partita è importantissima, soprattutto in questo campionato, che non ti permette di fare passi falsi. Perché solo un 3-2 anziché un 3-0 scivoli di due o tre posizioni. Quindi l'obiettivo nostro sono sempre i tre punti. Grazie a tutti.